e belli ragazzi sono the cover dog e benvenuti in questo nuovo video ed in questo video siamo sempre allo sfascia carrozze allora in questo episodio andremo a vendere le auto che ho rubato che non ho ancora mai fatto questo genere di video fatto sulle video per rubarle ma venderle no quindi ecco qua ce l'abbiamo già pronte questa rubata la mad bank quella sulla nave mentre questa adesso mi sfugge a questa sul sottomarino di toni mctoni eccolo qua in teoria come video mancherebbe quello della mezzo per quello di toni mctoni quindi è nulla che dire andate questo supporto a questo video con i like e porterò gli ultimi due che mancano ora vi faccio vedere a quanto li possiamo vendere ovviamente io li vendo solo non recupero le parti perché come vedete il prezzo è minore e dalla più costosa 386 mila che sarebbe l'azzo intorno mentre se vogliamo recuperare le parti 308 mila e 800 questa seconda più costosa e 337 mila e 269 mila e 600 per le parti l'ultima meno costosa 270 mila per vendite e 216 mila per recupero delle parti quindi nulla così allora io direi di partire come sempre dalla più costosa quindi partiamo da questa bellissima zentorno ovviamente non si può entrare per venderla basta schiacciare tasto destro freccia destra e vedete se avete altri amici all'interno del sio e le tue guardie esatto quindi se avete amici online potete anche direttamente fare la vendita da tre veicoli ciascuno insomma e quindi partiamo subito dalla dalla zentorno che è anche ovviamente era più costosa quindi vendi e punto consegneremo quest'auto a yousef e ve lo ricorderete non appena acquisterete la insomma la lo sfascio perché dopo averlo acquistato lui se ne andrà da un'altra parte in aereo e nulla quando le venderete gliele darete a lui e lui vi darà i soldi come vedete abbiamo mezz'ora di tempo noi siamo abbastanza vicini perché il porto è qua però danno mezz'ora di tempo perché c'è anche lo sfascio a carrozze a paleto bay quindi qui quindi serve un po' di più mezz'ora ovviamente non verrà mai usata però loro per sicurezza danno mezz'ora appunto se faremi incidenti ci toglierà un po' di guadagno e ce lo toglierà appunto dal conto corrente dopo quando arriviamo al porto e teoricamente il porto è l'unico no? dove si possono vendere le auto non penso cambi posizione se magari qualcuno ha lo sfascio a carrozze più in fondo o diverso non l'ho mai provato per ora sono molto fortunato perché non ho ancora mai fatto incidenti meglio meglio non dirlo però che magari sarà questo il giorno fatale praticamente è lo stesso luogo se trovate veicoli rari da esportare e chi non li trova vuol dire che non ha l'auto officina perché per trovare veicoli esportabili vi fa sempre questa animazione però vi darà 20.000 a veicolo quindi un po' schifetto fa allora richiamiamo la nostra auto perché è allo sfascio vedete vabbè comunque ci ringrazia e cavolate varie vabbè diciamo che il ritorno è un po' più noioso e direi di vederci direttamente lì ho dimenticato di dirvi che man mano che vendiamo veicoli quindi una parte di soldi andrà anche alla cassaforte dello sfascio a carrozze una parte non tutti i soldi ci danno i soldi totali della macchina più non so una piccolissima percentuale comunque per ora 288.000 perché è arrivata la notifica prima a 250.000 allora è piena ah no 208.800 ok allora andiamo con la seconda questo ce l'ho anche come veicolo personale davanti è carina il dietro fa un po' schifetto 337.000 e andiamo verde poi ancora peggio si vabbè a terminal ok ok perdonatemi adesso dovreste dovreste sentire l'audio di gioco mi ero dimenticato di collegare le cuffie al computer e ce l'avevo al controller vabbè comunque siamo rimasti qui posizione sempre quella questo che fa non lo so ma che spoiler gli hanno messo mi sono accorto solo adesso credo manchi prima ho detto la mad bank e e e e ah e il sottomarino potrei anche sbagliarmi magari ne manca un altro però io mi ricordo che abbiamo fatto la missione della polizia la nave e l'ultimo era il casino quindi teoricamente mancano queste due e poi non so se magari nel corso del tempo aggiungeranno altre missioni e non so nemmeno quanto duri questo evento di aggiornare veicoli ogni giovedì penso per sempre oppure magari è una scadenza però visto che abbiamo acquistato la proprietà non penso che scada e vabbè ma magari cambiano anche giorno degli aggiornamenti dell'auto magari invece di giovedì cambieranno non so allora siamo quasi ai 100 milioni e alla fine di questo video penso di arrivarci e la macchina è là in fondo adesso è Jamal che ci chiama ok si fa anche veloce comunque a vendere i veicoli perché e non si hanno bot non si hanno i bot che ti sparano fanno perdere valore infatti la prima volta ho detto strano che non ci siano i bot però proprio non li hanno messi e andiamo col seminal prompter per questo c'ho questi tre veicoli ce li avevo l'azientorno forse no perché mi pareva un po' inutile comprarla però la Bugatti però per essere una macchina di 20 anni fa paga bene 270.000 perché era un pezzo da collezione prima di fare la missione vi dicono un po' le storie da dove vengono questi veicoli tipo questo mi pare che proveniva da un film mentre un altro l'aveva comprato dopo che un personaggio famoso l'aveva usata sono belle anche le storielle che ci racconta Yousef qua un sacco di perri dentro io ce l'ho ma rossa e vedete che anche le targhe cosa fa questo che anche le targhe cambiano tipo questa è Roy Roy al di tipo però hanno tutto un significato queste targhe altra volta c'era una targa Yousef che è il tipo lì proprietario dell'autofficina adesso lo sono inventato io perché l'ho comprata quindi ed eccoci qua terza vendita ci vuole un sacco per fare preparazioni e missioni finali ma tre secondi a venderle tutte ecco che l'ho consegnato e siamo quasi a 2 milioni 1 milione e 8 quindi per chi vuole farmare soldi magari ha un account basso vi consiglio di prendervi qui lo sfascio magari vi fate un po' più di soldi e la comprate qua 2 milioni 2 milioni e 6 costano di più ovviamente perché sono in città e le missioni più delle volte sono qui vi sconsiglio questa anche se costa poco e pure questa compratevele in città che vi consiglio di comprarle insomma quindi niente andiamo a vedere se abbiamo raggiunto i 100 milioni 1 milione 8 ah quasi vabbè ce ne mancano 200 quando la casaforte del dello sfascio sarà piena ci arriveremo quindi nulla ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto noi ci vediamo in un altro video e non so se ne usciranno altri perché come sapete sono quasi la fine della scuola c'ho gli esami e robe varie quindi non so se ne uscirà un altro nel dubbio noi ci vediamo in un altro video ciao ragazzi